Ho passato gli scorsi giorni a farmare, a farmare per questo momento, per queste summon e questo continuo, questa terza parte alla ricerca di Kirishima. Abbiamo trovato due copie di Uraraka. Ci manca Kirishima. Li avete visti gli altri video, vero? Nel primo c'è stato un bel colpo di scena, nel secondo una bella pioggiettina di guerre, ma adesso ci serve proprio Kirishima. E' l'unico che ci manca. Come vi ho detto, Uraraka è in doppia copia. A me va benissimo, sinceramente. Io voglio Kirishima una copia perfetta e poi posso quittare questo banner essendo anche abbastanza contento. Cinque multi oggi. Cinque multi, mancano pochi pochi giorni. Alla fine di questo banner, se oggi non lo trovo, avrò per l'appunto massimo due giorni per farmare ancora, ancora un pochino, perché ho ancora un po' di campagna da fare. Me la volevo tenere, ma, ehi, se mi metta le strette dovrò continuare a farmare e cercare di portarmi a casa questo Kirishima. Io direi di cominciare con la prima multi, come vi ho detto ne abbiamo cinque oggi, incrociamo le dita e facciamo partire la prima multi di questo video. Kirishima, per favore, mi servi. Andiamo. Andiamo. Dai, dita incrociate. Si parte un po' malino, ma non è il peggior outfit. Non è il peggior outfit. Quindi un pochino ci spero. Un pochino ci spero. Perché non è il peggiore. Niente fiamme di All Might. Mi sa che la prima multi non c'è nulla. Andiamo. Un'altra R. Terza R. Quarta R. Ha un SR. Ci prendiamo un SR, che probabilmente sarà l'unica in realtà di questa multi. Si incomincia con uno shaft, come vedo. Un 2SR. Si comincia con uno shaft, sì, vedo. Vedo, 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 bello shaft. Potenti in questa. Seconda multi. Io non smetto di sperarsi, perché potrebbe accadere da un momento all'altro. Seconda multi. La facciamo partire. Incrociate le dita anche voi, che la scorsa volta ha portato bene. Ok. Forse sta portando bene anche stavolta. Dai. Dai. Dacci fiamme. Dacci Rainbow alla fine. E io posso essere contento. Dai. Voglio queste fiamme. Niente fiamme, ragazzi. Niente fiamme. Speriamo almeno nel Rainbow. Rainbow. Rainbow sul finale. Attenzione. Dai. Dacci Chirissima. Dacci Chirissima. Un SR. Ti prego. Ti prego. Un R. Un'altra R. Ci stiamo avvicinando. Un R. Un'altra R. Ci siamo, eh. Questo prossimo click è da R. Dimmi che è lui. Non è lui. È un Todoroki. Peccato. Peccato. È un Todoroki. Va bene. Va bene. Lo portiamo a casa. Magari mi può servire un giorno. Non so neanche se è buono. Io in realtà questo Todoroki me lo ricordo. Non so il perché, ma me lo ricordo. Ma va bene. Non tanto. Però partiamo con la... Terza multi. Terza multi. Mamma mia. Me lo stanno facendo veramente sudare questo Chirissima, eh. Me lo stanno facendo veramente sudare. Outfit buoni. Metto giù il cellulare. Incrocio entrambe le dita. Entrambe le mani con dita incrociate. Dai. Fiamme. 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 All Might. Niente All Might. Rainbow. Niente Rainbow. Mi puzza. Mi puzza. Mi puzza. Un SR. Va bene. Mi puzza. La situazione mi puzza. Mi puzza. Da un SR finale. Un SR finale. Gran peccato. Ok. Ultimi due multi. Quarta multi. La facciamo partire. Dai. 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 Per favore. Dai. Un po' male. Malino. 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 Speriamo nelle fiamme. Speriamo nelle fiamme. Niente fiamme. Rainbow. Niente Rainbow. Beh dai. Un SR. Niente Rainbow. E mi sa che... Che anche oggi... Che riesce ma non ce lo portiamo a casa. Un UR. Un UR. Un UR. Ci ha dato idea. Una memory. Era una memory. No. Hulk. Hulk. No. No. C'erano due UR. In questa multi. E non... Incredibile. Hanno un rate così alto. Le UR featured. Che veramente sto facendo... L'impossibile. Riuscire a portare a casa. Tutte queste UR unfeatured. Ultima multi. Ultima multi. E poi è finita così. Non so neanche io... Eh... Niente. L'outfit è sempre quello. Non so neanche io come sto riuscendo... A non trovare questo benedetto che riesci ma. Incorciamo le dita per quest'ultima multi. Fiamme. Attenzione. Niente All Might. Neanche Rainbow. Mi sa che... E' finita così. Mi sa che è finita così. Qua non ci saranno guerre come nell'altra multi. Purtroppo. Questa è l'SR conclusiva. Finisce così. Anche questo video. Non lo siamo riusciti a trovare neanche oggi. E' incredibile. Sto facendo un record di ritrovare tutte queste unfeatured. Per il rete di questo banner. Pazzesco. Pazzesco. Beh. Dovrò riprovarci un'altra volta no? Mi sa che... Questa sera mi attende veramente tanto. Tanto farming eh. TANTO. Farming. Cercherò di raccattare almeno altre due multi. Ma... Ho seri dubbi che questo... Chierissima... Possa uscire. In queste prossime multi che riesco a farmarmi. Va bene. Per questo video è tutto. Un po' sfortunato. Sta di fatto che 3 UR le abbiamo trovate. Però... Poteva andarci molto meglio. Niente. Ci riproveremo un'altra volta. Magari ci possiamo rifare. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi. 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 Ciao ragazzi.